bella ragazzi e benvenuti in questo nuovo video io sono EJ lo scioppone e oggi siamo con Wargamer ah ah è vero scusa no no non fa niente che fare il ballo no no non devo fare la figata la cosa figa vabbè comunque ragazzi come potete ben vedere mi sono scioppato il pacchetto dove c'è anche l'elfone ho capito bene perchè l'hanno trasferito ma vabbè me lo sono scioppato e perchè non l'avesse ancora visto c'è il cactus che è bruttissimo non mi piace operazione giabaglione congelata e pesce secco congelato quindi ragazzi ma il fatto è che non hanno messo le motte del del mostro l'hanno messo guarda che l'hanno messo davvero vediamo fammela vedere aх ma solo c'haً ma la puizzare solo con... cioè la skin ahh eccah ok comunque ragazzi a volta来 valgamer visto che il player dell'anno si è completamente dimenticato di avere l'elfo Ma ti posso chiedere una cosa? Tu che hai già l'elfo, puoi per caso dirmi cosa vedi nello shop nel pacchetto? Se vedi qualche ribazz o solamente tre skin? No no, vedo tutto, tutto, vedo pure la skin, erfo. Ah, secondo me ti darà mille ribazz, secondo me. No, non piangere. Io ho dovuto spendere 24,99 per questa skin bellissima. Cioè tra l'altro una volta me l'elfo mi faceva schifo, però adesso che hanno aggiunto questo skill... A me è pure normale a dir la verità, cioè... E che sei il suo, vedi normale? Cioè mi piace pure normale l'elfo. A me non piace normale l'elfo, a me fa schifo. No, Anna non mi deve chiamare adesso. Anna adesso sto facendo... Adesso sto facendo un video col pacchetto. Ah, il tuo pacchetto è cicci? Sì. No. Ti chiamo quando ho finito, va bene? Ok. Ciao. 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 Ah, il mio schifo! Allora, ragazzi. Poi questo pacchetto secondo me, secondo me dovevano mettere il ballo del ciclope, secondo me lo dovevano mettere per tutti, non solo per il ciclope, il balletto del ciclope. Sì, perché vedi personaggi che aprono la bocca con un'apertura di 360 gradi, se non è 360 ma vabbè, e... Cioè, non ho capito. Non è piccola la stile in all'elfo comunque. Sì, è bellissima, però a me piace di più con questo stile, cioè, mi piace troppo. Cioè, non so te, ma a me piace tanto. Comunque, ragazzi, Wargamer e io abbiamo trovato tutti e due piccone del sacriciatore felice. Quindi, io, che non ce l'avevo, finalmente ce l'ho. E secondo me è più bello, perché l'altro è tutto metattico, cioè, non c'è qualcosa... Ma è tutto di ferro. Sì. Non so manco perché lo sono sciopato. Ma perché, cioè, all'inizio le cose... Quanto per fare... All'inizio le cose... All'inizio le cose sembrano belle, poi invece sono di una bruttezza. Comunque devo... Devo chiudere internet perché... Me lo shop fanno più belle le cose. Sì, ogni volta... Me lo shop... Eh? Me lo shop le cose le rendono più belle. È vero. Comunque, ragazzi, quando faremo video su Fortnite, noi parleremo dalla chat, perché non ha senso parlare da Steam, visto che secondo me Fortnite... Non ha senso proprio con l'ego, proprio. Eh... Perché secondo me Fortnite è il miglior gioco di certo vocale per adesso che ho conosciuto perché... Cioè, non c'è... non ci sono tanti problemi di solito. Ma posso dire cosa? Cosa? Ma sai che quando tu parli con Fortnite ti si autocrea un canale Discord e parli tramite Discord? Non ho capito, in che senso? Quando tu apri Fortnite, se vuoi vedere nel gioco c'è Discord per parlare con la chat vocale, ti si apre un'autostanza di Discord e lì entra Discord. Ah, sì, lo so. Eh, quindi Discord è una cosa OP, OPissima. Sì, guardato che io non... Uh, lancia palle di neve! Il lancia neve! Oh mio Dio, lo amo quello! Ale, l'onore a te del lancia palle di neve? Anche perché verde? Ah, grazie! Ma noi c'è c'è... C'è gente! E' una... Io sto la gunnum bot, però. Ok, una terga! Ma iniziamo, we healthy! Oh, uno l'ho tergato! Aspetta. Sì, vabbè, non è che sono tutto sto forte, ma vabbè. Finito! Eh, oh! Eh, ora... Eh, ora... Eh! Che... Fucile! Ma se... Ho rimesso dentro il magazzino questa skin. Quale skin? Eh, cioè, volevo dire quest'arma, il fucile e la fatteria. Ah! Eh, sì. Ma in serio. Ma perché oggi mi scomodo e non riesco a correre? Uh... Perché c'è la scorsa faccio, non so perché, ma... I taschi stanno completamente in faccio. O sono io che sono addolmentato. E può anche essere possibile. Può anche essere pure per me. C'è perché... Prima ho fatto win, però... C'è... Ero in singolo e poi... C'è... Non c'è... Ah, hai fatto già una win? Sì. Gigi, è per Ale che fa le win di mattina. Eh... C'è... È raro, però. Perché io di win non le ho più fatte. C'è... No, io a volte con te le faccio le win. Comunque... Perché mai spendere dei soldi per un piccone Minty, se puoi avere la skin del Minty? Ma perché spendere i soldi Minty quando tu puoi... Quando tu c'è... C'è... Per avere... Per avere l'elfo Minty quando tu ce l'hai già l'elfo Minty? E manco te ne accorghi. Ma non è la stessa cosa che ho detto prima? C'è... 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 Ad esempio... Ah... Mmm... Ok... Non è vero... Ho detto una mica di buone a catirtà. Che c'è detto? Niente! Ho detto che la pizza è buona. si in un video la pizza è buona vieni vieni Ale vieni Ale comunque ragazzi molto a breve o oggi o domani sicuramente 100% domani porterò un video di Friday magari con Wargamer anche se i video di Friday o forse no ma anche no allora io non so perché io con Friday anche lì ho dei problemi che c'è talmente poche FPS che mi si blocca tutto la registrazione tutto 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 si è visto ieri che si è crashato il computer no no mi era crashato non potevo fare niente si mi era crashato Friday però non è che mi è crashato è che ha pochi FPS quel gioco di merda perché si deve caricare troppe cose comunque ragazzi secondo me è troppo pesante un po' come un gioco perché alla fine comunque ragazzi scrivete nei commenti quali stile vi piace di più dell'erfo quello predefinito o quello minty sinceramente a me quello minty or oppure quello di Ale se dici allora se dite word dovete scrivere ehm word hashtag word hashtag word invece se Ale è hashtag Ale vabbè scrivete quello che volete scrivete quello che volete tanto lo so che scriverete scriverete tutti hashtag Ale ma ci saranno 300 commenti sul canale hashtag Ale hashtag Ale hashtag Ale sì no non credo proprio ma vabbè comunque che ne dici che questa sia sarà l'unica partita che facciamo in questo video così non dura 10 ore un video di Fortnite dico che mi sembra un po' mi sembra una cosa un po' strana che tu fai i video di 2 minuti no è che semplicemente le partite di Fortnite in questi giorni stanno durando 2 ore perché io una volta ho fatto una partita e il video è durato 16 minuti invece io ho fatto una partita e mi è durata 25 minuti perfetto e quindi stiamo messi benissimo comunque ragazzi mi fa impazzire questo stile dell'elfo cioè veramente una delle mie stile preferite in assoluto è diventata all'improvviso eh cioè io l'elfo quando lo vedevo perché io già prima del pacchetto vedevo proprio forse l'anno scorso vedevo quell'elfo e dicevo ma quanto è bella questa schifia quanto è bella quanto è bella quanto è bella perché dicevo ma perché non è mai più uscita e dicevo che è sta roba mi chiede una bella schifia e invece poi warrior ci deve cacciare con la epica perché è uscita nel pacchetto no no non mi sono incazzato però mi sono incazzato perché sono stupido che non sa manco che ce l'aveva già attenzione amici sì perché non si ricordano più di me perché però troppo gta ti fa male ah ne è vero dai raga adesso proviamo però a fare una cosa leggera almeno ah ho 22 incazzo raga con voi si vince 23 23 non so come ho poche fai piaci bene non l'ho detto una volta io a quanto pare perché sono l'erfo mi porta fortuna l'erfo a me porta sfortuna a quanto pare mmm ciao va vedi qua aspetta eh va bene anche io però che me ne vado via da voi allora sta arrivando sta arrivando forse aspetta aspetta nemici nemici dentro un ciscuglio anche io però che me ne vado cioè ragazze allora ho preso la spada di kylo ren e faccio pure i tutti e chi non lo sapesse kylo ren spoiler invece non lo so mai ah 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 non lo manco ma caccia ma dov'è il mio poppa ma dov'è il mio poppa ah eccolo micchia sono per lasciare il poppa meno male che mi riesce un apparto oh mamma mia pensavo fossi da morto perchè senza pompa uno non può giocare a forme ora vai la regola numero uno di poter ti dice che bisogna avere sempre un poppa portata in mano sennò gli altri ti fanno il culo ah 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 attenzione 65 ledshot attenzione e poi dobbiamo andare scelta attenzione headshot 63 ledshot con la R cioè mica con lancia granata con la R come fai tanto oh ale ale ho 31 31 31 40 mi sono tutta l'uscita intanto averti ma di te zero ho atterrato atterrato uno però devi devi provare a farteli tutti perchè c'è io poca mi e c'è anche tu poca vita no mi è trappato trappato ma c'è pochissima vita ah ma che fai e però se se dobbiamo allora io ci provo cioè io provo a spararli però non so se ci riesco vado però la safe poteva essere un po' più vicina perciò potrò aiutare il wildgamer no 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 oh ma io non l'ho mai visto da dietro l'elfo minti è bello lo so è bellissimo con ansi anche e soprattutto il suo genetto sì vabbè prima ho detto ansi ma ragazzi mi sto inventando un nuovo italiano che ci uscirà solo nel 2020 ma che ne fai doppia ricarica come doppia ricarica è ricaricato due volte io vedevo una volta io l'ho chiuso due volte che gioco di merda e devo ritornare in altre peste tra l'altro perché? ma perdo un uccellino no vabbè e però se c'è curio io dove vado? affa eh eh mi sa eh va bene dai ci mi aveva appena fatto fuori però vabbè devi per l'uscitino bevi 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 che fa bene la morte? potrebbe essere adesso sono indeciso se shopparmelo o non shopparmelo oh non lo so cioè io questo pacchetto per di più l'ho shoppato per l'elfo oh ho tenato non so come me li sono fatti tutti e due come ho fatto non lo so ho avuto culo ma non ti prendi la scarra? ma what the fuck? no è un fanteria quello ah la scelta non è partita io ma finalmente lo fai per 30 punti fammi fare tra l'altro per 21 vorrei farti notare vabbè però è sempre meglio avere la vita 89 ma è sempre meglio avere full ho capito però cioè è sempre meglio essere full va bene e poi se mi salta col cecchino tra la seconda che cosa stai facendo? ma come cavolo fai a builda così? male? quindi è troppo veloce oh builda di una velocità ma come hai fatto? fa pavimento muro e pavimento muro e pavimento muro semplicemente me l'hai insegnato tu mi sono messo bene si però mi hanno rotto leggermente il calcio guarda che è un baffanculo ma io faccio degli eroi col building madonna madonna oh se io in un video non dico madonna non sono le k ok ok perfetto no però ragazzi questo video praticamente lo sto facendo da solo perché Wargamer l'ho lasciato morire come un bastardo l'ho lasciato mi sento in colpa ehm se io faccio vedere tutto che succede niente 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 non succede niente fatti lo shield fatti lo shield abbatti la costruzione alla nostra scala così caldo eh sì ma però io devo andare prima in safe poi io ma magari lo fai col cecchino col cecchino la vedo un po' dura perché così hanno tutto il tempo di questo mondo eh no vabbè ma lo fai senza mirare prendi il bernamira e vai cioè senza mirarlo fatti mamma mia ogni volta che c'era cecchinata penso che c'è per me e vabbè Wargamer che muore non so ragazzi c'erano stigioni Wargamer sta sempre male cioè boh io non so non so se magari da lui nevica sempre da me ma aiutarsi e nevica ma che nevica c'è da te dove nevica la cara e dove non nevica ma se da me c'è il mare che non nevica una micchia se nevica se nevica si sono allineati i pianeti vuol dire no però però a me non c'è comunque mai il mare non c'è mai il mare da me non ho ben capito quello che volessi dire ma vabbè non ho ben capito Morgan? Si? Che cosa c'è da dire? Pensavo fossi cacciato. No, no, sono vivo. No, ha detto pensavo fossi cacciato, non che fossi cacciato. Sii. Quale game ha dei problemi? Mentali. No, mentali no. Si. E' sempre... Ma... ma WTF? Ma lo avevo preso, non è chiuso. Se lo prendevo... La terra finiva. Se l'avevi preso. E' vero, scusa. Ero idi grammatico. Ma per... che fa? Che fa? Non ho quasi più match. Vaffanculo al mondo, vaffanculo. Ma scusa, perché non fai cecchino? Ti prendi pure e lo fai? Si ma il mattone è proprio il materiale che odio di più. Anch'io. Ma adesso lo devi sentire per fu... Ah, che fai! Jumpy deck! Aspetta, adesso voglio mettere lo stile a minti per tutti quanti voi ragazzi. Aspettate, ragazzi. Stile menta. Stile menta. Che bello. Perché mi concludo il video perché non ce la faccio? Cosa? Perché mi concludo il video perché non ce la faccio? Ok. Ok. Concludi... Calmiamoci Ale, calmiamoci. Ale, calmiamoci. Concludi sto cazzo di me. Ah... Ma si può mai morire in un modo così vergognoso? No. Accaduto no. Ma non rivolgo i deltaplani, che tanto. Rivolgo di nuovi deltaplani. Ok. Pure io. Eh... Ragazzi, direi che questo video si può concludere qua perché ho fatto una partita bella ma alla fine è stata una merda. Cioè ho fatto un fail assurdo. Vabbè. Spero che questo video comunque vi sia piaciuto. Lasciate un bel mi piace. Iscrivetevi. E... E pregate che... Wild Gamer sia ancora... Un miti. Perché lui usa sempre quello per definire. Cioè lui raga usa esattamente questo coso. Tu usi Wild Gamer questo coso. Che non ho ben capito cos'è. Perché usi Wild Gamer? Vabbè ragazzi. Spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate un mi piace. Iscrivetevi. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao.